Come smettere di essere ossessionati dall'opinione degli altri? Un trucco c'è! Ogni volta che ti senti giudicato, chiediti, quello che gli altri pensano di me è un fatto o è un'opinione? Un fatto è qualcosa di oggettivo, di realistico, di concreto, che tutti possono vedere. Un'opinione, invece, è un punto di vista soggettivo, puramente individuale. Dunque, qualunque giudizio è stato fatto su di te, chiediti sempre, quella cosa è un fatto reale o è un'opinione? Solo così riuscirai a non farti influenzare costantemente da ciò che dicono gli altri. Ricorda, la vita è la tua e solo tu hai il diritto di viverla come meglio credi.